No, tutti qua stanno Britta storia, servio, vattene, vattene proprio da là Hai capito? Britta Compà, non ce la fai con noi Vattene, compà, vattene Vattene, vattene, vattene Veneno 1.3 Naro due uomo mettiamo in seat osea c questo Pularo Mario Che dici? Che fai? Ma cazzo, sbaglio pulsante, sbaglio, vaffanpuno Compa, appena mi hai detto sei fortissimo con questo personaggio, sto iniziando a prendere mazzato Capito Sergio? Ma no, ma no, ma che dici? Compa, ho fatto quattro morti di fila senza farla in via Che bacco Dai, le su, schia, le su, schia Cazzo, quanto hai diventato Qualcosa è impossibile da buttare giù adesso? Eh, compadre, adesso no, ma perché l'hanno fizzato? Sì, c'ho detto a quattro due sette, ti rendi conto? Su Giles dovete andare Rimani là, rimani là Appena arrivano tutti, salti fuori e fai l'ultimo Ah Vai, 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 vai No, compadre, no, no Ci diamo proprio Non ci diamo proprio No, non ci diamo proprio nuovo no si'd no no p teach out oh nel tempo ancora liberi 3-4 pure quella si deve far seccare, guarda, guarda i coglioni, i coglioni quando uno ha a che fare con dei coglioni vabbè, ma c'è un gatto, vedi quanto è diventato sì, sì, lo so, lo so però perché tezza si è dovuta far seccare così sperando che cazzo feia riesce a resistere se no, sta dando non ci fare seccare, non ci fare seccare sperando che cazzo feia riesce a perdere però non ci fare se la prima volta sono stanze non ci renda non ci fa non ci fare Oh, pensavo che te li ho stupendo, ma perché non ve lo... Ma non capisco No, ma non butti giù il nukat, Fabrizio La squadra antisommossa arriverà fra trenta secondi Truppe enemiga in arrizione No, vabbè, non è cosa, dai Abbiamo scherzato No, vabbè, non è cosa, dai No, vabbè, non è cosa, dai No, vabbè, non è cosa, dai No, Fabrizio No, ma perché l'hai fatta là? Non basta No, vabbè, non è cosa, dai 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 No, vabbè, non è cosa, dai